Siamo nella nostra casa albergo a salutare ovviamente idealmente i nostri ospiti, a ringraziare gli operatori per il grande lavoro che stanno facendo e a inaugurare questo box degli abbracci che da lunedì consentirà ai parenti e agli ospiti di potersi incontrare attraverso il contatto. Io prima ho sentito anche il calore della mano della persona che stava lì. Il sindaco di Monfalcone ha voluto sperimentare subito il nuovo box degli abbracci allestito nella casa albergo comunale per anziani a disposizione da lunedì per le visite dei parenti e agli ospiti che saranno pianificate dalla stessa struttura. La riteniamo una questione fondamentale di civiltà e di umanizzazione degli accoglimenti all'interno della casa albergo. Una realizzazione che permette un contatto fisico con i propri cari pur nel rispetto delle norme di sicurezza contro la diffusione del virus e che a Monfalcone arriva in tempo per le feste di Natale. Questa è un'idea che è stata elaborata dalla nostra responsabile del blocco 1 e realizzata nel giro di una settimana con risorse minime rispetto e con soprattutto l'intento di riuscire a fare un regalo. L'abbiamo realizzato veramente in tempi record, in una settimana si è realizzato grazie alla buona volontà del nostro falegname del comune che ha potuto realizzare la struttura in legno dove sono stati appesi questi teloni in questo materiale isolante per poter mettere in sicurezza tutti gli incontri. Con il nostro ordine del giorno anche del gruppo consigliare regionale di Forza Italia nel futuro verranno determinate anche risorse per la sanificazione di questi box che verranno date poi anche agli operatori perché saranno indispensabili.